La scomparsa di Lucia Bosè ha riportato alla luce un legame particolare che lega l'attrice milanese alla nostra città e più precisamente al film L'ospite del 1971 per la regia di Liliana Cavani. Fu infatti il gruppo Giovani Cattolici che al tempo curava il Cineforum in città e del quale facevano parte il direttore di TVL Luigi Bardelli ed Attilio Guardincerri, storico collaboratore della televisione, ad invitare la Cavani a Pistoia in occasione della proiezione del film I Cannibali del 1970. Erano gli anni in cui si iniziava a parlare di manicomi aperti ed una ventina di ospiti delle ville Sbertoli erano presenti nella sala cinematografica dell'allora Cinema Lux. La regista chiese informazioni su quelli che lei stessa definì singolari personaggi ed in quel momento nacque l'idea per la sceneggiatura dell'ospite, una produzione a bassissimo costo della RAI girato in 16 mm e dal quale lavorarono gratuitamente tutti compresa Lucia Bosè. Nonostante le auto usate furono targate Pisa, il film fu girato interamente a Pistoia ma il luogo reale non venne inizialmente indicato probabilmente per rispetto dei malati. Location principale delle riprese furono le ville Sbertoli ma ci sono anche scorci di Ponte Lungo e della nostra città. Un film decisamente controcorrente per l'epoca con il tema della malattia mentale dei manicomi molto d'attualità in quegli anni per via della riforma che presi il nome dallo psichiatra Franco Basaglia e l'apertura dei manicomi fino a pochi anni prima impensabile che arrivò nel 1978.